Ciao a tutti, oggi prepareremo le cipolline in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti. Gli ingredienti sono cipolline sbucciate, olio extravergine d'oliva, sale, zucchero, aceto balsamico, aglio e acqua. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Lo facciamo insaporire tre minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Adesso aggiungiamo le cipolline, il sale, l'aceto balsamico, lo zucchero e l'acqua. E proseguiamo la cottura per 20 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Le cipolline sono pronte. Andiamo a impiattare. Cipolline in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.